Una ragazza, un albero, un albero in fuoco. L'hai visto veramente? Sì. E tu cosa hai fatto? Ho fotografato. Tu dici che non ami nessuno, perché ami le alberi? Non mi ha detto niente, su ti temo. La moglie o te lai. Non, per favore. Non, 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 non. E poi? J'ai arrangé tous ces putains de catip. Je les ai mis avec les autres. Et puis j'ai arrêté de photographier. Grazie a tutti.